Lunedì sera all'hotel Flaminio si è tenuto il confronto tra i quattro candidati sindaci di Pesaro, organizzato e promosso da Azione Cattolica, un dibattito che è durato poco più di un'ora e mezza e che ha visto a confronto Andrea Biancani, Marco Lanzi, Fabrizio Liva e Pia Perricci. Sono stati vari i temi trattati a partire da quello della motivazione che li ha spinti a candidarsi e delle qualità che potrebbero portare con loro in caso di elezione, argomento sul quale i quattro rispondono con le ormai note parole che li accompagnano da qualche mese, chi più chi meno a questa parte. Seguono poi altre tematiche, tra queste quella che sicuramente scalda più di tutte è quella della sanità, dove da un lato Lanzi attacca il centro-sinistra e la giunta Ceriscioli, Oliva si lascia ad una leggera critica, Perricci invece ribadisce come l'ospedale unico sia un progetto che non si sarebbe dovuto realizzare in questo modo, o quanto meno, ma ormai, essendo inevitabile, che si facciano i giusti ragionamenti. E poi Biancani, che tra alcuni fischi del centro-destra in prima fila, risponde per le righe al progetto della regione Marche attuale, tra il rimando di inizio lavoro, spostamento dei reparti e riduzione posti letto. Meno accese le questioni che riguardano i giovani, su cui si dice poco e nulla, e stranamente meno acceso di quanto ci si potesse aspettare anche il clima sul tema dei rifiuti e sullo sport. Animi che però ritornano accesi quando si parla di strutture, infrastrutture e opere pubbliche. Lanzi, Oliva e Perricci attaccano il centro-sinistra, parlando di incompiute, progetti vaghi o spese eccessive. Biancani risponde con l'elenco delle opere in programma di realizzazione e quelle realizzate. Anche qui, dal centro-destra in prima fila, vola qualche fischio, alcuni addirittura gli danno dello sciacallo. In conclusione, un dibattito dal quale ci si poteva attendere di più, soprattutto in termini di proposte, ma che ha saputo regalare solo critiche, elenchi e spot elettorali.